Ma dove possono arrivare? Questi vogliono arrivare in Serie B. Sì, in Central League, però sono bravi. Tanto entusiasmo e condivisione popolare, questo è il segreto della società Rosso-Blu che attualmente occupa la terza piazza nel girone F di Serie D. Proprio qualche giorno fa è stato presentato il progetto del nuovo stadio in Casa L'Aquila. Nel 2009 si presentava come una tendopoli, oggi si candida a diventare un polo di riferimento nella regione e non solo, con un ruolo di centralità rilevante basato sui valori di inclusività e di formazione per i giovani. Un vero e proprio partenariato, quello tra la società e il comune, che ha permesso di avvicinare l'intera città a questo sport, un progetto invidiabile delle grandi piazze del territorio che permetterà non solo di aumentare l'attuale capienza della struttura, che dovrebbe arrivare a 7.500 posti, ma regalerà bar e locali commerciali nel rispetto della sostenibilità. Il nuovo stadio e il nuovo centro contribuiranno attivamente alla formazione di linee di ricavo, supplementari e indipendenti dall'attività calcistica, garantendo continuità economica e flussi di cassa costanti. Tutto questo è chiaramente parte integrante della campagna di equity crowdfunding, in partenza proprio oggi, che consentirà ad ogni tifoso, abitante o a qualsiasi persona da tutta Italia e nel mondo di diventare socio del club.